Tania Cagnotto e Simone Giannelli sono stati due dei protagonisti altotesini ai giochi olimpici di Rio e sono loro i volti scelti per la copertina dell'annuario dello sport 2016. Un appuntamento ormai fisso per gli appassionati, ma non solo. È stato il presidente della provincia di Bolzano, Arno Compaccera, a sottolineare il valore dello sport praticato a tutti i livelli. Il libro che è stato presentato oggi per noi è anche l'occasione per ripassare un po' i momenti di gloria che abbiamo avuto nell'anno 2016 per quanto riguarda grandi eventi sportivi e possiamo anche constatare con grande soddisfazione per quanto riguarda i successi a livello internazionale, nel mondo dello sport, possiamo considerarsi una grande nazione. Tania Cagnotto, regina dei tuffi in ambito nazionale e internazionale, ha concluso la sua brillante carriera olimpica con tante soddisfazioni. E progetti come quello dell'annuario dello sport non fanno che coronare un grande percorso professionistico ai massimi livelli. Per me è ovviamente un onore essere di nuovo sulla copertina di questo libro, questa volta insieme a Simone Gianelli, che appunto scherzando prima ho detto io sono il passato, lui è il futuro. Non è uno scherzo purtroppo per me, però io gli auguro insomma di riuscire ad andare avanti, ha tutta la sua carriera davanti, quindi di fare grandi cose. E niente, ringrazio anche Sweetroll che è sempre disponibile e sono molto onorata di essere su questo libro. Lo ha sottolineato anche Simone Giannelli Bolzanino, 20 anni tra i protagonisti della finale olimpica di pallavolo. Rendere giusto onore a chi si sacrifica e suda ogni giorno per un risultato è di fondamentale importanza. Sicuramente è una soddisfazione grandissima poter essere in copertina di questo libro, è qualcosa che penso di essermi conquistato sul campo, senza nulla a togliere a quello che ho fatto fuori, però comunque in campo non sono conquistato tutti i giorni lavorando duramente. Io penso che quello che voglio dire a tutti è che le cose possono arrivare, basta stare lì, impegnarsi tutti i giorni, sacrificarsi ogni tanto, lavorare duro. Le cose possono arrivare e come è successo a me, che sono un ragazzo normalissimo, può succedere a tutti. L'annuario dello sport porta la firma dell'assessorato allo sport della provincia di Bolzano. Ricordare quali siano stati i principali avvenimenti sportivi degli ultimi 12 mesi e i loro protagonisti permette di evidenziare il valore delle varie discipline agonistiche. È molto importante perché con questo abbiamo un insieme di tutti i successi dello sport di questa terra. Questo come primo, come secondo, è anche un libro che ci può spiegare per quale motivo abbiamo questi successi, perché si parla anche delle associazioni che sono dietro. Di tutto possiamo dire della popolazione sottirolese, perché siamo molto sportivi, abbiamo portato anche qualche dato che ci dice che il 50% della nostra popolazione è attiva. E forse anche per quello abbiamo questi successi. Redatto in tre lingue, italiano, tedesco e ladino, l'annuario dello sport 2016 ha visto il coordinamento di Laura Savoia.